L'Istituto Francais è a Firenze dal 1907, è il primo istituto fondato nel mondo. Ecco il bel palazzo dove si svolgono i corsi. Gli istituti francesi sono riconosciuti dal governo francese e dipendono dal Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri. Noi insegnanti siamo proprio tutti madrelingua francesi, in versione originale e senza sottotitoli. I nostri corsi si adattano alle vostre esigenze, in presenza, 100% online oppure misti. In due parole, qualità e flessibilità. Una didattica interattiva in cui l'apprendimento utilizza materiale autentico. Cinema, musica, fumetti, letteratura in cui l'approccio è divertente e ludico. All'istituto francese non ci si annoia. Gruppi piccoli, prof super preparati e ambiente stupendo. La combinazione è perfetta. Oltre ai corsi di qualità, quello che mi piace di tutto e dell'istituto sono le attività esterne. Spettacoli, conti, film, ce n'è per tutti i gusti. L'Institut Francais Firenze si rivolge anche alle scuole del territorio con gli atelier tematici, corsi di potenziamento linguistico e di preparazione alla certificazione DELF. L'Institut Francais Firenze è l'unico centro d'esame in Toscana per il DELF Dive. Così potrai certificare il tuo percorso con dei diplomi validi a vita e riconosciuti in tutto il mondo. La biblioteca propone le novità editoriali, i romanzi, i premi, i letterari, i saggi, ma anche i fumetti, i giornali, gli audiolibri, i grandi classici del cinema francese e le ultime uscite delle sale francesi. Una vera finestra aperta sulla cultura francofona.